Ben 54 testudo Germanni hanno trovato casa al centro del recupero fauna selvatica il Pettirosso di Modena, al quale i carabinieri forestali del nucleo CITES di Venezia le hanno consegnate nelle mani del responsabile del centro. Gli esemplari, rinvenuti in una villetta in comune di Venezia, erano rimasti senza proprietario, deceduto qualche tempo prima ed erano temporaneamente accuditi da uno degli eredi. I carabinieri CITES hanno subito proceduto all'identificazione delle tartarughe, tutte rientranti nella specie testudo Germanni, protette dalla Convenzione di Washington e dai regolamenti comunitari di recepimento della stessa in quanto specie in via di estinzione.